Dal 14 al 24 maggio al succorpo vanvitelliano della Santissima Annunziata torna alla rassegna teatrale Tutto il mondo è palcoscenico dedicata alla figura di William Shakespeare. È la quarta edizione di un'iniziativa sotto la direzione artistica di Gianmarco Cesario che si inserisce nell'ambito del Maggio dei Monumenti organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune. Otto spettacoli in cartellone, un workshop e degli incontri con esperti di teatro che al termine di ogni spettacolo incontreranno il pubblico e racconteranno il loro punto di vista su Shakespeare e su quello che è stato appena raccontato in scena. Il workshop è sull'Amleto e gli spettacoli sono quasi tutti spettacoli originali che si rifanno a Shakespeare ad eccezione di una versione mia personale di Sogno di una notte meta estate e La tempesta di Shakespeare. Sei spettacoli teatrali dedicati quest'anno al tema dell'amore sono al centro della Rassegna che ha l'obiettivo di esplorare nei suoi molteplici aspetti l'estro creativo di uno dei più moderni autori della letteratura di tutti i tempi. Sono molto contento che questa bella iniziativa che dobbiamo a Gianmarco Cesario riprenda e questa volta collocata nel maggio dei monumenti e in particolare avrà come luogo questo splendido gioiello vanvitelliano che è il suo corpo dell'Annunziata, della grande basilica dell'Annunziata e quel grande complesso che in qualche modo ha davvero una funzione molto rilevante nell'identità e nella storia di Napoli. è un luogo dedicato ai bambini, all'infanzia e credo che in questo momento rivitalizzarlo e richiamare l'attenzione della città, dare vitalità culturale a quel luogo vuol dire dare una grande forza alla nostra città.